Buonasera, buonasera, allora ragazzi, è veramente tardi, veramente tardi stasera, sono le tre e mezza e per fortuna penso che questa sarà una recensione molto breve, forse ancora più breve di Oliver & Company. Però il film di stasera, ventottesimo classico Disney del 1989, è La Sirenetta, The Little Mermaid. Allora, metto le mani avanti dicendo che, a parte che questo film non lo avevo mai visto, avevo visto il seguito perché avevo la videocassetta, quindi avevo visto La Sirenetta 2 e già qui mi sto rendendo conto che io ho visto un sacco di seguiti della Disney senza aver visto i film originali, ma vabbè. Era il periodo delle videocassette, del fatelo andare bene, tipo la meme del, eh mamma possiamo avere La Sirenetta? Mamma, abbiamo già La Sirenetta a casa, La Sirenetta a casa, La Sirenetta 2. Insomma, io da bambino ero più o meno così, mi ero più o meno sfigato che si pigliavi seguiti senza aver visto gli originali e o questo niente. No ragazzi, mettiamo le mani avanti dicendo che in questi due o tre giorni La Sirenetta mi ha perseguitato. Mi ha perseguitato perché è il prossimo mondo che devo visitare in Kingdom Hearts 1 perché lo sto rigiocando per prendere dei trofei e era il prossimo Disney che dovevo vedere e oggi ho rigiocato Silent Hill 2 e fra i carion che devi mettere in un determinato posto c'è il carion della Sirenetta. Madonna, sto film mi ha perseguitato in questi ultimi tre giorni. Insomma, beh che dire, beh che dire, allora, non so veramente cosa dire perché a parte il fatto che la Disney come sempre si è ripresa molto con i disegni rispetto ai film precedenti, ha fatto delle cose incredibili e è stata usata della CGI e questa volta in alcuni punti si nota, in alcuni punti credo che anche adesso qualcuno se ne possa accorgere. Ora io me ne sono accorto perché sapevo qual era il contesto storico, il periodo storico e tutto e così come ho detto però Oliver & Company, se sai qual è il contesto storico e ti puoi aspettare di trovarci della CGI, hai l'occhio già un po' più pronto per notarla. E infatti c'è due o tre sceni dove la CGI si vede, ma ce ne sono altri dove invece è stata mascherata veramente veramente bene. E quindi posso, ci sono alcuni pezzi dove la CGI è palese, altri pezzi dove non diresti mai che ce n'è. E cosa devo dire della sirenetta in sé? Non posso dire che non conoscevo la storia per il fatto che è Kingdom Hearts. Non posso dire che non conoscevo la storia, la ragione è Kingdom Hearts. Scusatemi, no, King Nonart, King Nonart. Fra King Nonart 1 e 2, la storia della sirenetta a grandi linee la conoscevo. Quindi, finalmente sono uscito a cosarmi in unghia. Quindi non è che ci sono stati grandi sorprese per il mio livello di trama, cioè me l'ero fra virgolette e mezzo spoilerato. E cosa dire? Cosa dire? Allora. Sto cercando di capire come possiamo allungare il brodo, perché in realtà a tutti gli effetti non ho tanto da dire sulla sirenetta. Perché il film è esteticamente molto buono, esteticamente molto buono, i disegni sono fatti molto molto bene. Sembra di essere tornati a vedere i Disney di un tempo. E è bello vedere che dopo tutto questo tempo, cioè fate conto che la Disney dal momento in cui è uscito, la bella addormentata nel bosco, quel film fu un fallimento talmente grande che fino ad adesso, nell'89, fatemi vedere di che anno era la bella addormentata. Fatemi vedere di che anno era, lo so ragazzi, ho gli occhi che mi stanno morendo davanti, però. Dal 59 fino all'89, quindi 50, 60, 70, 80, per 30 anni la Disney non ha fatto più film con le principesse. proprio perché hanno visto l'effetto che aveva fatto la bella addormentata. Ma no, ragazzi, ho gli occhi che a fatica mi restano aperti, non vedo l'ora di fare questa recensione, di andare a buttarmi a letto, perché non ce la sto facendo veramente più. La Lucy per caso si è addormentata la testa su Asriel? No, ok, non ha la testa appoggiata su Asriel, va bene, va bene. E allora... No, cosa devo dire? Cioè, non posso dire che sono rimasto entusiasmato, perché la storia la sapevo. E... Cioè, per me è stato più un... Vediamo questo film. Per me è stato più un... Ok, mettiamoci qui e vediamo il film. Vediamo un po' cos'è la sirenetta originale. Non dico minimamente che è un film brutto, eh, non lo dico minimamente. Esteticamente il lavoro c'è stato ed è stato molto molto bello. Sì, sapevo di quella questione che Ursula, il design di Ursula, si ispirava a una drag queen dell'epoca, ma non mi ricordo di preciso. Quindi, non voglio parlare perché alle 3.40, senza essermi informato, direi sicuramente delle minchiate. Quindi preferisco stare zitto. Meglio tacere e passare per idiota che parlare da idiota. E allora, no, possiamo passare direttamente alla questione di doppiaggio? Direi che possiamo passare direttamente alla questione di doppiaggio. Sì. Allora, film in inglese è onesto. Il film in inglese è molto onesto, le voci sono giuste. E le canzoni... Allora, le canzoni io devo dirlo. Per quanto sia la versione inglese sia l'originale, ce ne sono alcune che ho avuto un attimo fatica a capirle. Soprattutto la famosa in fondo al mar. La famosa under the sea, under the sea. È stata molto meglio in italiano che in inglese. In inglese vi giuro che ho capito meno della metà del testo in inglese. Fosse stato con i sottotitoli forse avrei potuto apprezzarla di più, ma... Insomma. Versione italiana. La versione italiana, invece, la trovo nettamente superiore. La versione italiana la trovo nettamente superiore. Perché ci hanno saputo fare un botto con il doppiaggio. Hanno trovato i doppiatori veramente bravi. Ursula è doppiata della Madonna. Ariel è doppiata. Credo, oserei dire, di un 1% meglio della versione inglese. Retritone ha molto più animo. Su Flounder non devo dire nulla. Il gabbiano, di cui non ho capito il nome, è giusto. È stato reso con una voce tonta e idiota. Perché il personaggio anche in inglese è tonto ed è idiota. Il principe Eric è molto meglio in italiano. Ora non starò a elencare gli altri personaggi secondari, ma comunque sono molto buoni. C'è un solo personaggio che è molto particolare in questione di doppiaggio, ossia Sebastian. Allora, quando ho sentito Sebastian in italiano, il mio proprio pensiero è stato Ma questo è un doppiatore effettivamente italiano? Perché sembra che abbiamo preso tipo lo spagnolo, il portoghese, il primo spagnolo raccattato in un bar e gli hanno detto doppia un film italiano. Un po' stile film della Dingo Pictures, ma con un doppiatore vero. Insomma, è come se non avessero preso un doppiatore veramente italiano. E io qui voglio andare un attimo a favore di una cosa. Magari a qualcuno di voi potrebbe dare fastidio... A qualcuno di voi potrebbe dare fastidio che Sebastian si è doppiato mezzo espanico? Cioè, come se si sentisse chiaramente che non è italiano? Ma io lo difendo. Io lo difendo proprio perché la voce originale di Sebastian è più o meno sempre quella. E credo che abbiamo preferito trovare una voce che, sì, magari non fosse tanto perfetta, ma fosse comunque più fedele all'originale. Da una parte lo difendo. Hanno voluto mantenere un attimo il vero animo dell'opera. Inizio a vedere sfocato con gli occhi e devo battere le pupille di Conti. Battere le pupille? Che cazzo sto dicendo? Che cazzo sto dicendo? Oddio, sto intortando le parole, sto intortando le parole. Qua finisce male, qua finisce veramente male, devo bere. Non mi posso nemmeno prendere dei biscotti, fra un discorso e l'altro, perché i miei hanno tolto il pacchetto. Hanno raggiato il pacchetto di fette biscottate, ma non è la stessa cosa. C'è il pacchetto delle brioche, ma non posso aprirlo perché farebbe troppo rumore. E avrei sgamato pieno. E allora... No, io onestamente lo dico col cuore in mano, difendo la voce italiana di Sebastian. La difendo perché... Cioè, ci fai caso che non sembra italiano, ma non è brutta. Non è quella voce che ti dici Madonna, me l'hanno fatto doppiare al panettiere sotto casa per nulla. Sì, forse non suonerà molto italiano preciso, ma comunque lo difendo. Comunque lo difendo. E niente, sulle canzoni ho già parlato, le preferisco molto di più in italiano che in inglese. E nulla, nulla. Wow, ragazzi, effettivamente la recensione è più breve di tutte. Actually, la recensione è più breve di tutte, non ci potrei credere. Madonna, quando lo riascolterò sentirò soltanto 5-6 minuti. Wow, wow, wow. Cazzo sì. Cazzo sì. Cioè, un pochino mi dispiace non dire nulla sulla sirenetta. Perché mi rendo conto che è stato un grande film a livello storico. Mi rendo conto che a livello storico ha aperto... Se gli altri film avevano aperto lentamente i cancelli verso la nuova era, così conosciuta come il rinascimento Disney, ho letto su Wikipedia che questo film proprio li ha calciati, aperti questi cancelli. E quindi, nulla. Cioè, a livello storico è stato un grande spaccone, è stato un gran successone, ha aperto le strade a nuove cose. E dato visto che questo film dovrebbe essere, se ho capito bene, perché l'ho letto la veloce come mi capitava, che questo film dovrebbe essere l'ultimo film della Disney che è stato interamente colorato a mano. E quindi già dal prossimo, che è Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri, dovrebbe esserci di mezzo già la colorazione effettivamente digitale, non manuale. E da una parte sono curioso, da una parte sono curioso di vedere che cosa sarà Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri. Anche un pochettino per meme, per il fatto del, del tipo, ma te che cosa, cioè, quando, ipotizzo, ipotizzo, gente che parla di Rulofrose male, e tipo dice che, ma Rulofrose è brutto, ma non ho capito, è brutto perché non ho capito il finale. E te giustamente a meme gli rispondi, ma te hai guardato Rulofrose o hai guardato Bianca e Bernie nella Terra dei Canguri? E, onestamente, non vedo l'ora di vedere questo film, proprio perché così almeno posso, fra virgolette, dare un senso a questa meme. Sì, ragazzi, questa meme, non rompete il cazzo, io dico il meme, o la meme, per me meme è maschile, femminile, in base a come mi gira in quel momento. Non rompete il cazzo, per favore. Perché c'è gente che rompe il cazzo per queste cose. Ma sapete cosa? Non me ne frega. Non me ne frega. Se per voi si dice il meme, io vi dirò la meme apposta per farvi girare le palle. Lo farò apposta. Comunque, niente, la recensione è finita. La messa è finita, andate in pace, fratelli e sorelle. Mentre il prete che sta per fare il matrimonio fra Eric e Ursula ha una presunta erezione. Che poi non ho visto nelle mie versioni del film, in italiano e in inglese. E che la Disney cercò di giustificarsi dicendo che invece che un fallo era il ginocchio del prete. Però, il fatto sta che nelle versioni che ho guardato non c'era. Il fantomatico cazzone. Però, ci fu anche una donna che sporse denuncia per questa roba qui, ma... Senti, signora. Un paio di milioni. Stai zitta. Un paio di milioni e non apri più bocca. Va bene. Ok, ok. Penso che un paio di milioni possa andare. Simp. A parte no, simp è il termine sbagliato. Ragazzi, passate, me lo sono un quarto alle quattro. Sono un quarto alle quattro e sono effettivamente distrutto. Non ce la fa più. Volevo dire qualcos'altro dopo questo momento di smanio, ma no, non mi viene in mente più nulla. Buonanotte. Comunque, ci tengo a fare un piccolo post scriptum. Sebastian, che dice sono circondato da dilettanti, era l'originale scar del sono circondato da un branco di idioti. I veri ched dicono sono circondato da dilettanti. No, è vero, è vero, ora che ci penso. Le due frasi non hanno lo stesso significato, ora ci penso, perché sono circondato da un branco di idioti. Sta semplicemente a constatare che attorno a te c'è soltanto gente uno più coglione dell'altro. Mentre invece sono circondato da dilettanti, sta a significare che sei circondato da persone che non capiscono niente dell'argomento a cui ti stai riferendo. Mentre invece il significato di scarri è tutti sono cretini, idioti, non capiscono un cazzo di assolutamente nulla. Post, post scriptum, poi stacco veramente, perché sono già le quattro e mi uccidono. Ci tengo giusto a precisare che non sto dicendo che le canzoni inglesi della Sirenetta siano schifo, assolutamente no. Le canzoni in inglese sono una bomba, sono fatte veramente bene, soprattutto Part of Your World, che è tipo la canzone iconica, la canzone chiave di tutto il film, che in italiano hanno dovuto cambiare il titolo e il testo per far tornare la musicalità. E infatti Part of Your World mi è piaciuto molto di più in inglese, anche per il fatto che in Kingdom Hearts l'ho effettivamente sentita, però il problema è che quando lo giochi in Kingdom Hearts 2 le canzoni più che sentirle le ascolti sottofondo perché sei impegnato a fare i quick time event e quindi la canzone non te la puoi godere davvero. E insomma, insomma, io dico che in inglese l'unica canzone che mi ha mandato nel caos è stata In Fondo al Mar, che premio molto di più in italiano. Comunque sia, ragazzi, il mio giudizio sui doppiaggi è guardate quello che vi piace di più, guardate quello che vi pare. Non sono, entrambi i doppiaggi hanno i loro pregi e i loro difetti, quindi scegliete voi. Grazie. Grazie.